Ogni venerdì, ogni sabato abbiamo sei casi di intossicazione acuta, che arriva fino anche al coma, da stati di ebbrezza assoluta fino al coma. E allarme alcol ad Arezzo, lo confermano i numeri preoccupanti registrati dal 118 nel 2016 nella provincia. In un solo anno si sono registrati ben 315 casi di intossicazione etilica, numeri che toccano picchi elevati soprattutto nel weekend, giorni clou della movida retina. Ma tantissimi non passano da noi, tantissimi tornano a casa, tantissimi vengono presi ai genitori perché non li portano in pronto soccorso perché si vergognano di portare un figliolo ubriaco in pronto soccorso. Quindi è molto più vasto ancora, questi sono dati nudi e crudi di pazienti portati in ambulanza in pronto soccorso. Ma sicuramente il movimento è molto più grande e molto più ampio. Il 70% di questi casi qui succedono in città di Arezzo e quindi sono circa 200 casi ad Arezzo, quindi la stragrande maggioranza. Poi viene i valdano con appena 50 casi e poi le valli con dai 10 ai 20 casi a valle. Il consumo smodato di alcol interessa tutte le fasce di età, dagli over 40 ai giovanissimi. E' preoccupante anche il fatto che sotto i 20 anni ci sono anche minorenni, quindi ragazzi di 12-13 anni che bevono in modo assurdo. E pensate, loro ci sono molto meno quantità di alcol per sballarsi perché il fegato ancora è maturo, quindi ancora tutti i citocromi per la materializzazione dell'alcol, che ripeto l'alcol è un tossico, non deve stare nel nostro organismo, per smaltirlo fanno molta più fatica, quindi si intossiano ancora prima. Uno o due ogni fine settimana arrivano. La maggior parte dei casi di intossicazione etilica riguarda gli uomini circa il 70%, ma il fenomeno è diffuso anche tra le donne. E questo è un problema anche importante e sociale, cioè non c'è più distinzione di sesso e di età. Giovani donne e giovani ragazzi bevono, questo è il punto. E ci dobbiamo fare una ragione, questo è, e questo dobbiamo combattere alla svelta perché è un problema serio. E io credo che l'omunità si debba indignare su questo cosa qua, deve cominciare ad alzare un po' di barricate, perché non può essere solamente la scuola, il comune o il 118, la polizia, i carabinieri. Deve essere la società e soprattutto a partire dalle famiglie, ripeto, le famiglie non possano dire questo non è un mio problema.